A quasi 18 mesi dall'uscita del gioco base, Fallout 76 entra in una nuova era con l'espansione gratuita Westlanders, che avvicina drasticamente l'esperienza a quella di un classico capitolo numerato, una via di mezzo tra Fallout 3 e Fallout 4, con qualche piccolo sprazzo dialogico preso da New Vegas. Ciò porta alla luce una serie di incongruenze narrative e una mole di contenuti iniziali che rischiano di sotterrare i nuovi giocatori, ma la visione di insieme c'è. La premessa fondamentale di questa espansione è accomunabile a quanto accaduto anni fa a Final Fantasy XIV, che con Realme Reborn si è trasformato da un gioco fallimentare in un successo di larghissima portata. Per replicare l'impresa di Square Enix, Bethesda si affida una storia che riparte un anno dopo gli avvenimenti di Fallout 76, quando un nutrito gruppo di persone viene a conoscenza della ripresa della vita in Appalacchia. Questa è la giustificazione per l'arrivo di tanti personaggi non giocanti, che si occupano di dare il via alle missioni della nuova campagna. I nuovi giocatori si trovano così a gestire in contemporanea due diverse linee narrative, che già da sole racchiudono al loro interno una mole di contenuti esagerata, e che, unificate, rischiano di mandare in confusione chiunque si lanci solo ora in questa avventura. A dimostrazione che Wastelanders sia un'espansione pensata prima di tutto per i veterani, e solo successivamente per tutti gli altri. Sono stati comunque riadattati gran parte dei dialoghi e situazioni sia per quanto riguarda i vecchi robot, sia per gli esseri umani che ora è possibile incontrare nel corso della campagna base. Affrontare ora la missione al campo di addestramento McClintock significa trovarvi all'interno anche una recluta umana, che se poco cambia i fini dell'obiettivo, aggiunge un valore totalmente diverso all'esperienza da un punto di vista empatico. Sarebbe stato un indicatore sul Pip-Boy che desse un'idea chiara di quali sono i compiti dell'originale e quali di questa espansione, ma da questo punto di vista è comunque apprezzabile il lavoro effettuato sull'interfaccia relativa alle quest, che ora permette di distinguere facilmente missioni principali e secondarie, così come di leggerne un riepilogo generale dalla mappa e decidere quali e quante tenerne attive. La nuova campagna gira intorno alla ricerca di un tesoro nascosto del quale non si sa molto. Arrivare al nodo della questione significherà scoprire delle conseguenze interessanti ai fini della lore di Fallout, mentre si fanno i conti con elementi di spionaggio e una sana dose di black humor. Ci sono anche tante opzioni di dialogo, con un ottimo log che tiene conto della discussione in corso, delle vere conseguenze e tante possibilità di sfruttare le proprie caratteristiche special per uscirne come si vuole. Nel corso della quindicina di ore necessarie a completare l'espansione si ha modo di incontrare una nutrita schiera di abitanti, così come di fare la conoscenza delle due fazioni, ovvero predoni e coloni. Queste non sono altro che gruppi di persone tornate in Appalacchia per colonizzare nuovamente il più bel territorio che Bethesda abbia mai disegnato per un capitolo della serie. Una è dedita alla costruzione, l'altra è votata allo scontro fisico. Entrambi i gruppi possono essere portati avanti, entrambi con i loro compiti specifici, fino a una specifica scelta che metterà di fronte alla necessità di schierarsi. Completando missioni per i due gruppi sarà possibile guadagnare reputazione, divisa in sette livelli e altrettanti benefici. Si va dalla solita base di missioni di soccorso fino a caccia di specifici oggetti, passando per la ricerca di qualche membro scomparso. A fianco delle fazioni si posizionano poi gli alleati, un gruppo di personaggi secondari che è possibile aiutare seguendo specifiche missioni dedicate che si sbloccano nei pressi dei loro rifugi. Una volta aiutati, gli alleati andranno a rimpolpare le fila dell'accampamento e si potranno costruire delle strutture appositamente pensate per loro. Da quel momento saranno in grado di assegnare missioni giornaliere costanti e il rapporto con il giocatore potrà essere approfondito fino a instaurare delle vere e proprie relazioni amorose. Quando si sarà conclusa la campagna verranno aggiunti alle meccaniche i lingotti d'oro. Questi vengono raffinati a partire da un altro collezionabile che è possibile recuperare tramite gli eventi pubblici, missioni giornaliere e settimanali. È possibile accumulare solo un certo quantitativo di lingotti al giorno, ma non c'è limite per quanto riguarda l'oggetto dal quale vengono generati. I progetti arrivano a costare davvero un occhio della testa, ma parliamo di una quantità di nuove possibilità tra armi, armature e strutture tali da poter tenere impegnati davvero a lungo nell'endgame. Al fianco di tanti lati positivi, la gestione dell'inventario, delle mutazioni, della fame e della sete, così come il sistema di crafting e riparazione dell'equipaggiamento, continuano a non convincere. Lo stesso si può dire per il loot, che risulta ancora schizofrenico, mentre il sistema di mira e sparo resta davvero poco soddisfacente. L'ottimizzazione invece è buona, anche se il motore che muove tutto rimane per forza di cose piuttosto datato a livello grafico. Fallout 76 Westlanders rappresenta insomma una buona ripartenza, con tante nuove aggiunte e una campagna lunga e interessante. La molle di contenuti fuori scala rischia di travolgere i nuovi giocatori, ma nel complesso siamo di fronte a quanto di meglio i nuovi e vecchi amanti di Fallout potessero aspettarsi. L'espansione è disponibile gratuitamente su PC, Xbox One e PS4 dal 7 aprile 2020. Voi l'avete già provata? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.